Sulla questione del mercato settimanale a Frosinone è intervenuto Antonio Morini, presidente dell'Associazione Nazionale Ambulanti Oggi, associazione nata nel 1996 con sede a Frosinone che ha due consiglieri all'interno della Camera di Commercio del capoluogo. Antonio Morini ribadisce che la soluzione primaria è riportare il mercato alla vecchia sede del Casareno. Noi come associazione ambulanti oggi preferiremmo ritornare lì perché la situazione in questo momento ha abusato anche la riconsegna di una serie di autorizzazioni da parte di operatori ambulanti, circa una quarantina, quindi diciamo che il numero sarebbe anche diminuito per ritornare al Casareno, sarebbe sufficiente occupare solo Viale Olimpia e secondo me gli operatori ambulanti sono disponibili anche a ridursi un piccolo spazio che occupano oggi pur di ritornare in quella posizione. Il presidente dell'Associazione Ambulanti Oggi, Antonio Morini, sottolinea poi che il mercato potrebbe restare a piazzare Europa purché siano apportate delle modifiche che possano eliminare le problematiche sorte attualmente. In questa situazione si è inserito un altro elemento che è la proprietà dello stabile forum, dove c'è il parcheggio sotterraneo, seminterrato, e pare che l'autorizzazione inizialmente sia stata chiesta non al proprietario dello stabile ma al gestore del supermercato, il quale verbalmente aveva detto che andava bene spostare lì il mercato perché a loro non disturbava questa cosa. Però oggi viene fuori un problema che è la pericolosità del parcheggio avendo una sola via di accesso sia per entrare che per uscire. Infatti la seconda via viene ostruita dai banchi del mercato. Quindi questo proprietario dice di chi è la responsabilità se dentro il parcheggio succede qualcosa, se delle macchine restano incastrate perché nell'ora di punta chi entra e chi esce a un certo punto non si sa più dove far uscire le macchine. Se in caso di pericolo, in caso di un problema, chi si prende questa responsabilità? Sempre la proprietà dei forum ha proposto all'ufficio attività produttivi, all'assessorato, una soluzione alternativa. Questa soluzione alternativa a noi di ambulanti oggi ci soddisfaceva perché andava ad occupare un pezzo di Corso Francia fino giù in fondo all'incrocio con via Portocallo, si spostava, si liberava il parcheggio, quello dietro dove sta oggi il settore alimentare per capirci. Quindi si poteva accedere nuovamente dalla strada che parte dal parcheggio della Questura fino ad arrivare al parcheggio dove c'è la strada di Padre Pio. Si risolveva questo problema dei residenti che vogliono l'uscita libera sia a destra che a sinistra e quindi oggi ostruita dai banchi del settore alimentare e lì si veniva a creare anche un altro piccolo parcheggio. In questa maniera il settore alimentare veniva posizionato su un pezzo di Viale Europa partendo grossomodo dalla chiesa fino alla scuola per capirci, quindi non in direzione di Viale Volci ma nella direzione opposta verso Via Marittima e in quella maniera avrebbero avuto anche il parcheggio più vicino questi del settore alimentare e il mercato in quella maniera secondo noi potrebbe funzionare meglio e si potrebbe anche ovviare anche se la nostra prima opzione è ritornare a Viale Olimpia intorno allo stadio Casaleno ma come seconda opzione potrebbe anche andare bene che resti lì a località selvapiana ma ripeto con questa disposizione.